150 imprese agricole con le carte in regola per collaborare con il consorzio Alto Valdarno e concorrere così alla sicurezza idraulica del territorio. Tante legalità che si sono candidate a comporre l'elenco aggiornato dei partner su cui l'ente di bonifica potrà contare per affidare una parte importante degli interventi di manutenzione ordinaria sul reticolo che è in gestione, un ampio pool di operatori locali disposto a collaborare con i tecnici del consorzio per migliorare la difesa del suolo, rimettere in forma i fiumi, torrenti e canali, eliminare la vegetazione che invade le rive e ostruisce gli alvei dei corsi d'acqua. L'attività che svolgiamo è veramente importante, i tagli periodici, la sistemazione dell'alveo, la sistemazione delle sponde, ripeto sono tutte attività lodevoli che facciamo con il concorso delle imprese e oggi rincontriamo le imprese come tutti gli anni per mettere a punto alcune questioni e soprattutto per determinate novità che sarà necessario estrinsecare a questi soggetti. Alle ditte sono stati spiegati, oltre che i requisiti essenziali del regolamento e quelli che erano già vigenti prima, le nuove disposizioni appunto che loro dovranno rispettare e sapere per l'affidamento dei lavori pubblici, dei nostri lavori del piano dell'attività. La Regione Toscana ha approvato il piano delle attività di bonifica per l'anno 2018. I lotti sono in corso di progettazione, successivamente verranno affidati in modo da poter realizzare i lavori entro la prossima stagione invernale. I primi che partiranno ovviamente sono i lavori che riguardano i centri abitati, le zone più urbanizzate o comunque sia i corsi d'acqua che interferiscono con infrastrutture. Secondo un calendario stabilito di volta in volta anche insieme ai singoli comuni, ascoltando appunto anche le necessità manifestate dal territorio e sulla base ovviamente di valutazioni tecniche.